Musica Cari videogiocatori e cari videogiocatrici Ben ritrovati ancora qui su The Long Reach Per la seconda parte Allora, siamo con il nostro amico Siamo sfuggiti dallo psicopatico E adesso bisogna andare avanti Siccome un po' che non lo gioco Spero di ricordarvi Cosa fare, spero di ricordarmi Sono quei ravioli Ma andando avanti la memoria ritorna I bollitori non sono adatti Per cucinare i ravioli Eh, va bene Presumo che siano ravioli almeno La chiave di Stan Perfetto Quindi la prossima cosa da fare Cos'è? Vabbè Lasciamo perdere Passiamo a un posto tranquillo Io prendo l'ascensore Adesso vediamo Andiamo 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 a un altro piano Scendiamo giù Vediamo bene Sì, al B2 C'è Babbo Natale Il poster Come sappiamo Siamo nel periodo natalizio Ma Altro che Natale Rosso Sangue Allora Dove cavolo vado Non lo so Ah, ecco gli armadietti Qui dovrebbe esserci Quello di Stan L'armadietto di qualcuno Non è di Stan Ahimè L'armadietto di Stan Probabilmente non dovrai curiosare Eh, ma È la chiave Usa la chiave di Stan Mari c'è qualcosa di utile Il tranquillante di Stan Cosa ci faceva? Quel genere di cose Che ti fa dimenticare La morte di tua madre A quanto pare Gli è morta la madre A Stuart Sì Se fa questo commento Probabilmente Stan Soffre Soffriva d'ansia E anche Stuart Sembra avere dei problemi Qui c'è un cadavere E quel poveraccio Uh, eccolo qui La fuga è durata poco Torcia spenta Perché se no Quello ci vede Mettiamo Adesso questo caffè Calmerebbe un elefante Sì No, no, ma Ma visto No, no, no Non volevo le Ok Sono morto Va bene Avevo capito cosa fare Eh, però Ah, l'ha già messo? Perfetto Quindi Ah, mi nascondo? No, ma Non verrà lui Dovrò fare qualcos'altro A parte Farmi vedere No, no Ok Fa rumore Dovrebbe farlo avvicinare Forse prenderà il caffè Ok Ha ancora un po' di umanità Vai giù Dovrebbe stendere un elefante Ok Buonanotte Posso uscire? Tranquillo? Intanto qui c'era qualcosa Non cadere nel buco? Non sistemeremo i tubi E congelatori Al piano di sotto Se cadi nel buco Prova a fare un paio di passi Intorno al buco La manutenzione Beh Ma ha senso questo Questo post-it Ma Diciamo perdere Dimmi qualcosa C'è qualcosa? Ok Cut hand Ok Alice mi dispiace Sono così Così dispiaciuto Eh Alice Ormai Non alzarti Ce lo auguriamo tutti Ti prego Non alzarti Va bene Andiamo avanti Adesso dormirà per un po' Io posso girare tranquillamente Forse Si spera Andiamo all'ascensore Proviamo di qua In basso in basso Ah Qui Ecco Mi spiace veramente Alice Si Ha funzionato La sala monitor Wow Questa chiave è speciale Si la chiave Qui Ah un piede di porco Sono uno scienziato Con un piede di porco Rosso Beh però Tecnicamente Sono solo uno scienziato In verità Non sei neanche uno scienziato Bene Questo sembra un pulsante Di isolamento Ah per isolare Tutto l'edificio Devo aprire Scappare forse Ed è chiuso Come dovrebbe essere Un pulsante Di isolamento Ok Isola l'edificio Si Non va bene per niente Eh E' fatto una gaffe Stuart Un telefono O un fax No un telefono Eh Ah Shelley Stuart Sei stato bravo Eh Shelley Che diavolo sta succedendo Lo so Mi dispiace Di averti ingannato Le scuse non bastano Sei chiuso Dietro una porta blindata Sei più al sicuro di me Ah Ah quindi Si è chiuso lui Ma lei è in pericolo Shelley Cara Shelley Si è messa male Eh Come faccio a sapere Che sei qui Questa è una stronzata Stuart Hai solo mentito E allora Ora questa follia Non si rifoderà All'esterno Gli psicopatici Sono dietro le porte blindate Ah le hai chiusi Si Perfettamente senso Beh Scegli non ha tutti i torti Stuart Eh Porte blindate Quelle costruite nel 1980 Un gruppo di psicopatici Non ha un'arma nucleare Sovietica Beh suppongo Finalmente Quindi chiamerai la polizia O qualcosa del genere Eh si Bisogna chiedere aiuto Chiamare i soccorsi Ma mi sa che qualcosa Qualcosa mi dice Che non lo farà Shelley Che non lo Stuart mi sa che Shelley Non chiamerai i soccorsi Lo so Mi da quella impressione lì Andiamo Allora No Non possiamo farla uscire Non possiamo farla uscire Mi prendi per il culo? Stavamo facendo progressi Sarebbe stato tutto inutile Alice è morta Lo so Ah Sa che Alice è morta Quel pezzetto di carne Ne era la prova Che abbiamo adoperato Per entrare qui Quindi Shelley Lo sapeva Ok C'è da fidarsi di Shelley È una trama un po' intricata Va bene Andiamo avanti Allora Eh Ho letto tutto Posso andare avanti Premi il tasto Pensi che io Non abbia Empatia Pensi che non sia empatica? Lui risponde Chiama la fatuta polizia La SWAT La Guardia Nazionale I SEAS No Questa ricerca verrebbe considerata immorale La stampa ci farebbe a pezzi Hai suonato Bach e Beethoven Tre ore fa Ah è vero mi ricordo Ah tre ore sono pa Quindi tre ore fa Adesso sappiamo esattamente Il tempo trascorso Il tempo che è passato da Da quando è svenuto Tre ore Questa ricerca verrebbe bloccata per sempre Non mi interessa Voglio vivere Voglio che i miei amici vivano Lascia quei lo sistemi Stuart Stai cercando di edularmi adesso? Che cosa? Di cosa stai parlando? Tu Vuoi uccidermi? Oh Mi sa che anche Stuart È contaminato Sta roba Non Sta roba verde Adesso tu vuoi uccidermi? No Stronza bugiarda Stuart Tip Eh Fottiti Calmati Fottiti 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 Mi sa che Stuart È impazzito È stato contaminato Anche lui Dai Inizia ad avere un po' un senso Che diavolo sta succedendo? Non sei più in te Sto impazzendo? Eh Quanto pare Pesa come un mattone È una batteria pesante Le batterie pesano Un po' come quelle delle auto Sono pesanti Ah La facciamo esplodere La bomba è dentro Eh Imposta al microonde Forse ti conviene allontanarti Che ti allontani Stuart Boom Voilà Fuochi d'artificio Fatti anche in questo gioco No Non funziona Niente ascensore Ok Non andrà all'ascensore Mi comincia Ah ecco Qui sì Eh sì Bravo Stuart Piede di porco rosso È tornato utile Dove siamo? Questa roba Fuori Siamo fuori Siamo fuggiti Stiamo scappando Stiamo fuggi Ok Ho guadagnato un trofeo Argentato Quanto pare Stuart si lascia Tutte alle spalle Beh abbiamo già finito Il gioco Non credo Ah un diner Ah un diner Hilly Billy diner Halley Billy Hilly Beh Ok Ah controllo lui Questo Lei lui Cos'è un uomo Roger Te lo sto dicendo amico È tutto un casino Waiter Cosa c'è che non va? L'etica del lavoro L'etica del lavoro Non vedo un editore decente da anni Ne hai mai visto uno? Ah stanno parlando del più Cos'è? Uno scrittore allora Cioè lui lavora al diner E l'altro quello che beve Uno scrittore Presumibilmente Presumibilmente È uno scrittore Tutto si fa il cicchetto Come i bravi scrittori Che sia Che bevono Allora Tutti gli scrittori Allora Lavoro in una tavola calda Una tavola calda Eh non può conoscere Un editore Vedi? Questo pensa che il copywriting Sia la stessa cosa Della scrittura creativa Non lo è? Non è lo stesso È completamente diverso Usiamo il lessico completo Ah Lui è altolocato Loro usano la versione censurata Tagliata E lobotomizzata Vuoi farmi un esempio? Beh lo sai Parole semplici A posto dell'eloquenza Lui non lo è Io sono uno scrittore Io sono uno scrittore Io sono un artista Ah Si eleva lo stato di artista Roger Sì Chiacchierate da Noi diremmo da bar Qui da diner Allora È la mia visione creativa Che ha portato Un sacco di soldi A molte persone Molte persone Quali? A Wayward Tentacle Murder Joy Crazy Little Creators Scegline uno A Wayward Tentacle Miglior narrativa Per tre anni consecutivi Il franchise Più divertente Di sempre Ah Miglior narrativa Ma sono collane Chi diavolo è lui Per dirmi che la mia scelta Di parole Non è abbastanza buona Amico Eri divertente E tutto il tempo Stai cercando di non prendere La mancia? Poca mancia Amico Non ci sono molte persone Qui Potrei essere essenziale Per questo locale Qui Eh Questo locale Adesso si Atteggia anche Molti iscrittori Fanno la fame Cosa viene a dirmi? Forse guadagna più Non dipendete di un diner Se non sei un iscrittore famoso Poi so Fai la fame Sei l'unico che viene di notte È una tavola calda Amico Di notte non c'è nessuno Beh Sono ancora un fottuto cliente pagante No? Ehi Camice bianco Ah è arrivato lui Qui per la scienza È il tuo meglio Roger Stuart Un telefono Ok Stuart cerca un telefono Quindi adesso non siamo più Stuart Ma È fuori di testa Ok Perfetto Mi serve un telefono Devo avere un telefono Devo trovare aiuto Il telefono aiuta Frasi sconnesse di Stuart Non abbiamo uno dal 2010 Ah Solo cellulari Eh ma se ti chiamano? C'è una cabina telefonica Sei un bugiardo? Merda Sono qui Sono venuti per me Oh mamma È impazzito Non c'è nessuno Stuart Eh? Un gatto Un gatto È lui che è venuto per te Il gatto nero I delitti del gatto nero Va bene Lasciamo perdere qui Ruttino Che ne sai? Siamo al tredicesimo posto In tutta la contea Per i migliori pancake O almeno hanno qualcosa di cui vantarsi Ehi micio Come va? Niente Parliamo di nuovo con il roge Dico barbiturici Cosa? Nah È solo il gioco che abbiamo giocato a LA Los Angeles Presumo Smetti di frignare Bene Le solite Ok Va Io mi preoccuperei più di quel tizio Che è appena andato Nella cabina Alla cabina telefonica Uno che ti entra nella notte così Tutto agitato O è pazzo Ho preso droghe Voi che dite? Va bene Andiamo avanti Sto continuo a bere Roger C'è il gatto lì che Si odora Lì dove non batte il sole Va bene dai Dopo questi piccolissimi commenti Andiamo avanti Avresti già dovuto saperlo? Disprezzo di sé Con un lato narcisistico Vei paroloni per un tizio di una tavola calda Eh Prestiti studenteschi Roger Dovresti controllare il camice bianco Eh Perché? Perché è pazzo Perché è fuori di testa Waiter Qui ha ragione Roger Lui uno scrittore sa quello che è Sembrava sconvolto Va bene Vado a controllare Va bene Vado a controllare Ok andiamo Tu beviti il tuo bicchierino Mentre io vado Pensavo fosse una donna Invece un uomo Waiter Va bene Qui Io starei attento Fare attenzione Ecco Un bel gancio sinistro Alla Tyson steso Ah ancora vivo? Odio questo tipo L'ho chiuso dentro Ok Non è morto Almeno Non ha fatto danni Stuart No Cos'è? No no Niente martelli Quello mi minaccia Sì Una via d'uscita Ok Possiamo Non so perché Stuart è venuto qui Questo è un gran casino Un casino Perché è fatto tappa In questo luogo Questo diner Perché la gente chiude tutto Ah Sì Intendi L'armadietto Che è chiuso Deve essere un bel quartiere Ah Come per dire Qui rubano Qui ci sono i ladri Questo dovrebbe tornare utile Ah Tipo un rompighiaccio No cos'è Forse sembrava tipo Un Cacciavite Non ho letto bene Non si apre Dannazione Eh usa Quell'affare Ci siamo Puoi ancora scappare Ti sei cambiato Questa è la libertà C'è che abbiate i vestiti Stuart Tra l'altro Tra le altre cose Tra le tante cose fatte Ah It's my first day Ok Nel tuo primo giorno Ok Di cosa non si sa Ma intanto sta impazzendo E' fuori di testa Ma l'abbiamo perso Stuart Abbiamo capito che è uscito qualcosa Da lì Da quel laboratorio Stavano facendo esperimenti Non proprio convenzionali Adesso dove sto andando Cos'è Anche questi flash bianchi Mamma Ma la città è in fiamme Tutto distrutto Anarchia Oh io vado avanti eh Anche perché non si può tornare indietro Cos'è un locale You art Ma Questa è la nostra ultima speranza Ma le sente lui le voci nella radio Non può essere Ma questo sembra Non sembra l'inizio del gioco Il negozio Tipo il mini market Chi è? Ammazza tutti Eh sì la signora Sì è lui È lui Ecco com'è Adesso si ricollega all'inizio E' Stuart che ha Spaccato Ha spaccato la Chi era Calvin Ammazza Ma è fuori di testa Vedeva le cose Uccidi tutti Mordere Assassino Ok C'è un assassino Ma non eri capace di intendere di volere Incapace di intendere di volere Se dovessero arrestarti Va tranquillo che Ci sarebbe lo sconto di pena Ok Ehi amico Ehi amico Noi junkie Chi è? Amico? Non lo cacca nemmeno Non lo caga Perfetto Ma è morto Parli con un cadavere? Hai qualcosa? Ok La prendo e basta Che cosa prendi? Che cosa vuole prendere? No Una siringa Vuoi farti una dose? Questo tizio è in un posto felice Eh In qualche viaggio astrale Ma sembra un vecchio Ma è una televisione Quello con la testa spappolata L'altro lì per terra Ma questo non è Calvin? Quello lì? È vivo? Ah si fa una dose Stuart Fugge così dai suoi problemi Stuart Ti ho cercato dappertutto Merda Cosa ci fai qui? Ah è arrivato Shelly Dove diamine sei? Che cosa c'è con la cintura? Ti stai facendo una dose? Non ce la faccio più Ho fatto delle cose C'è chi beve E c'è chi si droga Io ho scelto La via Della perdizione Ho scelto la via Il nostro Stu Non ce n'è bisogno C'è un modo per usare Il debug Di Alan Attualmente lo sto usando Alan? Quella cosa è reale? Più o meno Ho trovato questo Alan In ogni incubo Stava allenando le menti Delle persone Trasformandole in psicopatiche Ah ecco perché Sì Entra nella mente Ha avuto a che fare con lui Ma non sono sicura Che sia la fine della storia Maxwell li ha uccisi Meg Ha ucciso Meg Scusa Cosa? Perché? Sono stata nel suo incubo Ed è stato pazzesco Prima di occuparmi di Alan Per lui era come un tempio Eh sì Maxwell era fuori di testa Anche lui Che continuava a dire le cose Quindi ha ucciso Meg Maxwell E tu l'hai aiutato Steward Ti ricordo che gli hai dato il calice Non ha secondato il matto Si dice Così dicono Va bene E dopo È diventato come L'Armageddon Con degli steroidi Mamma mia Che strana Penso che si consideri Un meccanismo Di rapimento Mescolato con L'inquisizione spagnola Allora Allora Giudice Giuria E boia Ha costretto Meg A bere qualcosa Quel calice Che gli abbiamo dato Che gli abbiamo dato Che abbiamo dato A Maxwell Era tipo vernice Ci credo che è morta Se dai qualcuno Della vernice Subito una bella lavanda Gastrica O se no È morta Nel suo stesso vomito Ah infatti Gli ho dato io La vernice Affinché mi lasciasse passare E Shelly Non dice niente Quindi è anche colpa tua Stuart Non so perché Non so per quanto tempo Sarò in grado di farlo Non penso di avere Molto tempo A disposizione Stuart Sono stanca Affamata Disidratata Sarò morta In un giorno Ma adesso tu non sei Realmente qui Shelly Quindi sei nella mia testa Sei riuscita a penetrare Nella mia mente Sembrerebbe così Eh O sono io che mi sto facendo Le storie mentali Tutto nella mia testa Andiamo avanti Ho letto tutto Poi però c'è una cosa strana Cioè lui lì Quello lì sembra Calvin Veramente Sembra proprio Calvin Lo vedo lì Con le teste Con la testa Tra le ginocchia È vivo eh Almeno se Una posizione un po' in naturale Se fosse morto Sarebbe una posizione Un po' in naturale Non credo che una persona Possa morire così Ma io perché sto ancora parlando E non sto andando avanti Andiamo avanti Allora per favore Torna indietro E aiutami a sistemare le cose A me sembri onnipotente Calvin Stuart Come è possibile Che sia qui Per Eh si è girato È vivo Sì sì Quindi è proprio Calvin L'ho indovinato È lui Non l'ha ammazzato Intanto sto per parlare Sta a dire Per Mi sa che adesso Dovrà dire Perché lui è qui Per Cos'hai fatto Stuart Gli ho rotto La spina dorsale Con un martello Aia Ecco perché Allora è vivo Ma è la vita rovinata Ci saremmo sposati Tra una settimana Stavamo per sposarci Stuart E mi ricordo Sì Tra l'altro il povero Calvin Era andato lì Per comprare qualcosa Se non ci fosse andato Se tu Shelley Non ce l'avresti mandato Se tu non ce l'avessi mandato A quest'ora Lui sarebbe vivo Cioè vivo Sarebbe sano Con la spina dorsale Ancora intatta Ok Che succede? Vivo è vivo Ma Si dovrà sposare In carrozzina Questo? Ah è lui Alan Non reale Non reale Un cavaliere? Shelley Non è divertente Shelley non può arrivare qui Spazio sicuro Shelley ci ha provato Non c'è riuscita Questo posto è inespugnabile Brutte notizie Lei è più reale di te Ah Stuart Ok Quindi la E' la Personificazione di un cavaliere Alan Cioè Così si mostra Ai nostri occhi Questo è reale Se non c'è niente In una stanza Allora Lei non può usare nulla Ci sono delle catene Tu sei incatenato Qui è sicuro Sei al sicuro Sicuro? Davvero? Dovresti essere intelligente Alan Che cosa stai facendo Shelley? Ti prego Basta Ah Quindi l'ha incatenato lei? Ha trovato il suo punto debole E l'ha messo in catene? Non deve essere per forza così Sta zitto Signor stronzo Ah Stuart Vuoi sapere cosa succederà? Eh Spara Impazzerete tutti E vi ucciderete Eh Lei è una professoressa Ne sa A pacchi Eh Infatti sta succedendo questo Stiamo Sono tutti impazziti Stiamo tutti impazzendo E morendo Anche tu Stuart Ormai non ci sei più tanto Sei fuori come un balcone Ma lui Imperterrito Ne dubito È difficile ignorare le allucinazioni Quando sono tutto ciò che vedi E ho imparato molto su questi incubi Avrebbe potuto rendere l'umanità molto migliore Riesce a immaginarlo? Ahia che è quella roba? Se avessimo più soldi Per prendere maggiori precauzioni Ma che è quello a fare? Non è reale sicuramente Se non avessimo bisogno di fare Di noi stessi Soggetti di prova Sono stato alle riunioni Ho visto i volti Dei nostri investitori Militari Politici Case farmaceutiche Tutti Non ci renderà ricchi Oh mamma Ti sta Distruggendo il muro Il muro sta partendo Non renderà di nuovo grande l'America Ma può rendere la tua esistenza un inferno Se solo fossi abbastanza intelligente Per vedere Se solo ti importasse abbastanza Di vedere Ok Questo deve essere Che è? Qui si passa da un posto all'altro Questa sembra una casa Un appartamento La porta Questa porta è dipinta sul muro Come in un cartone animato Ah Ah è finta Porta finta Attento a non sbatterci allora Non ci sbattere contro Non provare Lei è tua madre Stuart? Ah è fastidioso Sono in un ritrovo per tossici Come può essere reale? Certo che non lo è Non sono un mostro Ho poca empatia E lei? Per favore Controlla tu stesso Sì E lei Ma qual è il punto? Ah quindi è la madre Ma non era morta la madre Qui l'audio è molto alto Dovrò abbassare un po' Perché è fastidioso Posso darle fuoco? Com'è? Una piromane? Cosa? No Dannazione Se solo avessi il controllo Di ciò che vedi Oh aspetta Oh aspetta Cristo santo Ah Lo so Vero? Riesci a sentire il calore? Oh mamma È andata a fuoco la mamma La mamma di Stuart Sta bruciando Ma non Non ne mette Neanche un urlo Non si muove Riesci a sentire L'odore di tua madre Che brucia? Vorresti buttarle Un secchio d'acqua? Ma non sarebbe acqua Sarebbe acido Che odora di acqua Hai una ragazza? Ah Hai una ragazza? Chiede Shelly È lei? Ah Stuart non risponde Preferisce glissare la domanda Conferma Pezzo di merda Pezzo di merda Io non ho una ragazza D'accordo Non è la tua ragazza Non è la tua ragazza Infatti O lo dice apposta Stuart Lo sta ingannando Shelly Oppure È tua madre Bam Sarebbe molto ambiguo In camera da letta In camera da letto Vero? Potresti essere interrotto In ogni momento Questa sfondo sessuale O il contrario Vorrei tua madre Come vorrei tua madre Cosa vuol dire? Vuoi accettare l'inferno? Puoi vivere all'inferno? Puoi vivere senza sapere cosa è reale? Ah siamo tornati Voglio dire Un covo per tossici? L'hai trovato proprio così? Hai delle droghe così? Non hai preso il detergente Vero? Detergente? Quindi non mi son drogato Ma mi son inietrato Del detergente Detergente Adesso vado Hai ucciso il mio amore Ah mi è morto Allora Calvi Ma Se diventi nero Nero Se spegni quella cazzo di auto Lascerò perdere La macchina scusate Se non lo fai Se non lo fai Giuro su Dio Ti ucciderò con il mio ultimo respiro Torniamo indietro Se diventi nero Nel senso Se muori Se muore Dove sei morito Ah ha vomitato Povero Stuart Ma è o non è un Sì Una pera se l'è fatta comunque In ogni caso Ok Va bene No alle droghe E non alle allucinazioni Mi verrebbe da dire In questo caso Nessuna droga Può aiutarmi a scappare Devo finire questa merda Ok Ci sta effettivamente Ok Un trofeo d'oro Gold trophy E mo? Dove si va? Cosa faccio soprattutto? Cosa dovrò fare? Ok Ah Si è messo Tipo una giacca O Un berretto Cappellino di lana In fondo siamo a Natale Siamo Forse anche oltre No Prima di Natale O Perché non è Non è ancora venuto Natale Non è ancora arrivato Non hanno festeggiato E che bel Natale Mi verrebbe da dire In questo caso Un alberello Una renna Dove siamo? Non si sa Beviamo Che fa sempre bene Bere Andrò ancora un po' avanti Sì Siamo in fondo A 30 minuti Avevano dello champagne Su questo piano Prenderò questo secchio Ok Mi trattavano bene Stuart Ma Tu sei A Josh Non parlarmi Stu Cazzo Josh Stai bene? Niente di tutto ciò È reale Stu Perché tutto ciò Non è reale Avrebbe funzionato Alla grande Cosa avrebbe funzionato Alla grande Perché ti sei messo lì Josh Nascosto Come un bambino Come se volessi Fuggire Dalle sue Dalle sue paure La ricerca La ricerca Quella che ho fatto La ricerca di Natale Merda Cos'è andato storto All'inizio ci siamo divertiti Anche Shelly si è unita Quindi c'entra anche Shelly In questo Sì Beh Si sapeva Però qui c'è dell'altro Anche Shelly si è unita Fammi indovinare Qui è andato tutto a puttane No no Ci ha aiutati Non potevamo distinguere Il bene dal male E il vero dal falso Shelly Ha aiutato Fino a quando Non ci ha parlato Del piano di sotto Cos'è successo là Abbiamo ripristinato L'energia Abbiamo collegato Il montacarichi Ah la corrente In pratica Sì Adesso è tutto buio L'avete scollegata O si è scollegata Stavamo agendo Tut'uno Una squadra perfetta All'unisono La squadra Che si è avventurata La squadra che si è avventurata Che cosa è andato storto Maxwell Ci ha chiamati infedeli A Maxwell Gli ha uccisi O convertiti E quella campana Quella fottuta campana Mi riecheggiava nella mente E' un inferno laggiù Le campane dell'inferno E tutto il resto Perché non te ne sei andato? E' accaduto troppo in fretta Se non fosse stato per Shelly Mi sarei perso anch'io Mi ha mostrato una via d'uscita Ah quindi Shelly Ti ha aiutato? E' stata Shelly A portarti fuori da qui Da lì O da là Da laggiù Da di sotto in pratica Dal piano di sotto Sì ma non sai neanche a chi credere A cosa credere Perché questi sono tutti matti Che cosa hai visto? Non importa Sono fuggito dalla battaglia Battaglia? Puoi lasciarmi in pace? Mi piacerebbe restare qui Per la vergogna Posso ancora sentire Quella campana Quindi non direi più niente E' vero Josh? Va bene Dovrò parlarci poi Che non mi dice nulla Chiavi Che poi ho una chiave Non sono chiavi E' una singola chiave Bevi anche qui Manteniti idratato Bisogna bere due litri d'acqua al giorno Ricordatelo Stuart Se non vuoi avere più allucinazioni Bevi Bevi di più Porta chiusa Come sempre Eh ma porta chiusa Forse aprirla? E' esatto Sì Ci sta Bene Cos'è? Ah il montacarichi Questo è il montacarichi Di cui parlava Josh Cos'è? Scaletta Ok Oh un tronchesino Adesso dammi qualcosa da tagliare Delle catene Questo cos'è? Sangue e purezza di Gesù? Oh Va bene Muy bien Tanto vado avanti Non c'è nulla di interessante Siamo dalla parte opposta C'è il cerume Outside key Ok Appena apro le porte Partono sti rumori Questo apre di fuori Questa scatola di fusibile Arrugginita da far schifo Abbiamo la peggior manutenzione Se ne fregavano Mi sa che non la Ah quello lo scioglie E poi magari usi la chiave Non si muoverà Ho bisogno di lubrificante Mi chiedo quanto peso Possano reggere questi cosi I cavi Ah Devo Ricordare No Impiccarsi non è divertente Infatti Questa è la tua ultima Soluzione Stuart In caso proprio Dovesse andare tutto storto Ecco qui Servono le tronchesi Tronchesino Evviva E vai Si è aperto Ok Questo serbatoio Sembra abbastanza pieno Prendilo allora Ah non posso Ah un secchio Un secchio pieno di carburante Dice sito gas Ma Presumo che sia carburante Non si può prendere il gas E mettere un secchio Ah il macchinario Per la corrente Infilacelo Questi sono i cavi elettrici Di una batteria Che non è più qui Ah i cavi Quindi lo collego direttamente Come prolungamento Un prolungamento Qui ci metto appunto Il liquido Ho già collegato i cavi qui Ok Forse dovrei collegarli Alla centralina Al Va bene Dovrebbe funzionare Ottimo Facciamo girare questo stronzo Ah Mettiamole in moto Urra Le chiavi sono qui Quel bastardo scapperà Ma ho le chiavi Bene Quindi tanto Deliri Non inerente alle allucinazioni È solo un voltometro Ok Quei cosi che servono per la corrente Per capire se arriva Ok acceso Andiamo Andiamo Non facciamo spiegazioni inutili Non Non giggi schiamo Non giggi schiare Stuart Qui c'è una telecamera Che mi osserva Forse dovrei tornare Da Josh Adesso Se mi ricordo Dov'è Ero io Di prima Dove sei Josh Qui avevo bevuto Sì avevo già bevuto Ok Non so cosa aspettarmi Josh Ah eccolo qui Adesso si incazzerà Josh Per quello che ho fatto Ho acceso tutte le luci Eh appunto Cos'hai fatto idiota Ho acceso le luci Shai gli ha detto che questo li attira Non devono esserci luci Vuoi scendere di sotto? Eh Per andare avanti Mi tocca Josh Capisco che c'è l'inferno Le 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 campane Tutto il resto però Sì Sono le campane Ti stanno chiamando Resterei lì per sempre Perché l'hai fatto? Sei un idiota Un po' sì Sei un idiota Ok Andiamo avanti Tanto non dirà più niente Il nostro Josh Jamie Lavora accanto a me Non posso usare un'emergenza Come scusa Per venire al lavoro Mi manca stare con te Dolce Sammy Non ce la faccio più Sammy Non posso continuare a barare Mi dispiace Spero che possiamo ancora Essere amici Ah Queste sono delle mail Che si inviavano Non so Qui c'è una tresca Hai ragione Alex Dobbiamo uccidere Jamie Maledetto traditore Il motivo per cui Il maestro non ci benedirà Eh Sono deliri anche Ma chi sono questa gente? Chi è questa gente? Io non lo capisco Jamie Il coglione Ci sta trattenendo Jamie il coglione Ci sta trattenendo Dobbiamo fare il bagno nel sangue Non vedo l'ora Sammy Sì Delirio Sammy Mi sbagliavo Alex deve morire Aiutami Sposiamoci Scappiamo Che poi non si capisce Chi è il maschio O chi la femmina Perché sono sia nomi femminili Che maschili Jamie Sammy Non uccidere Jamie Non uccidere Jamie Il maestro è il suo piano E viene prima Dei tuoi sogni sanguinari Sei lontano da Alex E non uccidere Jamie La libertà è per quelli Che possono Lavorare con i nemici Bah Le frasi senza senso Comunque Una gabbia di matti E queste sono state inviate prima Presumo le mail Prima che impazzissero Ah qui c'è Dan lavora accanto a me Ah le stesse cose Sono anche In questo caso Dan Quindi si sono scambiate Traditore Sì Le mail Sì le stesse identiche cose Però le altre Però le altre Forse non sono identiche Forse sono mail diverse Queste due qua Sono le medesime Che abbiamo letto prima Appunto appena letto Sì anche questo qui Nel bagno del sangue Ok Le ultime due no Sono diverse Gli stronzi Non ti lascerò mangiare I miei figli Mangiare Morirai urlando Prima che ti consegni Semmi Mangiare E divorare Penso metaforicamente Penso Letteralmente Non ammazzatevi A vicenda Il maestro Il suo piano Avviene prima Presto saremo tutti liberi Di fare ciò che vogliamo Attende ancora un po' Eh Wah Ok Dopo questo delirio Mi chiedo se fosse Il loro personaggio preferito Che è Catwoman Andiamo Posso prendere Il montacarichi E andare di sotto Dove non voleva Che Andassimo Il nostro caro Josh Se lo trovo Il montacarichi Se riesco a trovarlo Non so neanche dove sto andando Ah è qui Uh siamo arrivati Dai 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 No Ancora qui Scapp Dovresti scappare Scapp No Game over No 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 Era tipo un'allucinazione È di qualcosa Stuart Merda Erano tutte allucinazioni Diventa più forte Ho bisogno di passare Ah non posso Non va ancora Qui c'è qualcosa Che cos'è Spy Un ragno Ok Di nuovo questo bigliettino Un ragno Che Non è reale Ma penso che sia tipo Un ornamentale Potrà anche staccare Ma voglio Voglio vedere ancora qualcosina Dove va Di qua Poi bisogna andare Tanto avanti e indietro Bisogna ricordarsi tutto Qui si esce Quindi non voglio uscire Non devo uscire Oh mamma Se ne è andato Come mai Questi qui Josh Mi preoccupi eh Che cazzo hai fatto Josh Ho organizzato Tutto io Ho preso le chiavi Ho sistemato tutto Che cazzo hai combinato Il test Lo puoi fare ovunque Il test Lo puoi fare ovunque Quindi sta per tutto Sta delirando È pericoloso Attento Stuart Che questo è Se ti giochi male Le tue carte È questo Cosa Cosa cazzo Ho messo la chiave Del generatore Nella cassaforte Dovrai fare un tentativo Ti predisporrà Apri il piano di sotto Riuscirai dove noi Dove noi non siamo riusciti Non ha senso C'è Stuart Quindi ha nascosto La chiave Del generatore Nella cassaforte Sì Non l'ha? Di cosa stai parlando? È un piano perfetto Ci riuscirai Dovrai obbligarmi Lo farò Rilassati amico Oh mamma Ha tirato fuori La pistola Subito dopo Che ha detto Rilassati amico E qui devi giocarti Le tue carte Stuart Sennò mi sa Che fai un game over Devo stare attento A quello che dico Come rispondo Sta zitto Compirai il tuo dovere Dimostrerai il tuo valore A babbo natale Babbo natale? Mi prendi in giro? Non è così Lui è l'unico Che può proteggerti Non l'abbiamo trovato giusto Come? Che vuol dire? Sì Non facciamoci domande L'abbiamo persi tutti Abbiamo perso Maxwell Josh Alice Questo è ciò Che ci ha uccisi tutti Tu sei vivo? Eh Questa è la risposta giusta Non sei morto Josh non risponde Basta guardare Basta guardare Queste stronzate Josh non dice niente Tu sei nelle risorse umane È il 2017 Siamo nel 2017 Lo farà rinsavire Questo? Non lo so Paura di andare avanti Di premere il tasto Rischiamo dai Bisogna andare avanti Perché se non andiamo avanti Non dice niente Ok Non mi ha sparato ancora Puoi salvare te stesso Io Io sono cosa? Sono asceso Ecco cosa significava la luce Ho acceso il generatore Josh Sì l'ho acceso Calmati Josh Possiamo farlo insieme Questa cosa Possiamo tentare di farla assieme Ho spento l'estasi Ah ho spento il generatore Ho spento la luce di Alan Ho fallito in tutto Oh mamma Adesso Cosa fa? Ah Si è suicidato Beh almeno non ha sparato a me Non ha sparato a noi Eh Stewart Tutto il sangue Splatter Momento splatter Schizzi di sangue Sul vetro Con le cervella Ora che questo cambia Il fottuto gioco Fatevi sotto Stronzi Ho una pistola Ho una pistola Posso sparare Ai maniaci Ok Pianta ornamentale Una pistola Una piantina Qualcos'altro Ok 51 minuti Forse dovrei andare A meno A mettere questa roba Se riesco a trovarla Candy Ah Il Si Bastoncini Quelli che usano Mettono Natalizi Ok Forse devo tipo Addobbare l'albero L'avevo visto un albero Cioè non un No cos'è Si Questo l'albero Si c'è l'albero Un attimo Vado un attimo Da questa parte Perché La candela Mi riposerò Solo quando il mio ospite Sarà morto Quindi devo fare il gioco di Josh Per la chiave Questo anche Chi l'ha scritto Non stava bene Non sta Non stava bene Forse mi conviene Forse mi conviene andare Tipo Qui Ecco I regali sono nella cassaforte Per aprirla è necessario mettere 4 chiavi magnetiche nella giusta sequenza Segui un ladro che fa un'offerta di beneficenza Segui un ladro Che fanno Ok Un enigma Devo risolverlo Se non lo faccio giusto Taglierò la parte E ve la mostrerò già fatta Ha 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 Questo sembra essere l'inizio della ricerca di quel tifone di Josh Allora Vediamo se ho capito Candela Io l'ho già letto Non mi interessa Eeeh Ho messo la candela Quastoncino Natalizio Perché continua a schiacciare qui Che non me ne frega nulla Ah Dettagli Eeeh Ok Tipo pianta Muschio Voilà No Ho sbagliato Ok Bisogna ritentare Io non mollerò finché non l'avrò fatto Non ho messo il ragno tra l'altro Ho sbagliato io Sì Così Eeeh La pianta No Questo Ok È fatta Sì La chiave La chiave per andare avanti Ma noi andremo avanti solamente nella prossima puntata Perché È giusto fermarsi qua La prossima Potrebbe anche essere l'ultima Non lo so So che non dura tanto Va bene Ci rivediamo come sempre al prossimo video Alla prossima Alla prossima